Il Liceo Porporato di Pinerolo ha deciso di aderire a questo progetto perché ha tra le sue priorità strategiche l'educazione allo sviluppo sostenibile e perché questo progetto rientra in una serie di percorsi che sono già stati messi in atto, realizzati nei precedenti anni scolastici, in particolare nell'ambito del Liceo Economico Sociale che ha fra le sue priorità strategiche proprio percorsi di studio in cui diritto d'economia, scienze umane, scienze naturali si occupano di sviluppare i temi dell'educazione alla sostenibilità. Abbiamo una buona esperienza in materia che è stata maturata anche all'interno di un progetto europeo come Newsregio con dei partner francesi e l'altro elemento di forza di questo progetto per noi è anche la cooperazione trasfrontaliera in cui saranno direttamente coinvolti gli studenti di una classe terza di Liceo Economico Sociale, in particolare del percorso Esabac che li porterà al doppio diploma e che quindi nel corso dei due anni di studio, terza e quarta, realizzeranno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di ricerca nell'ambito dello sviluppo alla sostenibilità.